Ciao amici, mi trovo in questo momento nella casa che abbiamo in campagna, dove abbiamo festeggiato l'ottantesimo compleanno di mio papà. Noi siamo sette fratelli e ci siamo riuniti qui tutti con i nipotini, con insomma con tutte le nostre famiglie per festeggiare questo compleanno importante e anche tutti i compleanni che sono avvenuti in questo periodo di quarantena. Per questo motivo magari non mi sono fatta tanto viva con le dirette in questi giorni ma oggi assolutamente, viste le vostre proteste, ho pensato a voi anche se insomma un po' tardi questa sera. Qui con me c'è una mia carissima sorella che è sensibile al glutine e quindi abbiamo parlato molto e mi ha fatto vedere anche tutti i prodotti che utilizza per appunto sostituire il glutine. E quindi ecco mi ha fatto vedere per esempio questi cracker di riso che sono fatti con il riso integrale, con la quinoa, tra gli ingredienti c'è anche l'inulina. Poi mi ha fatto vedere queste fette biscottate, vediamo se riesco a farvele vedere. E quindi abbiamo letto insieme le etichette. Sono prodotti che hanno dei claim importanti, per esempio cerchiamo di inquadrarli. Per esempio ecco c'è scritto che non c'è l'olio di palma, ovviamente c'è scritto che è senza glutine, poi hanno dei claim positivi, no? Però che cosa si nota in etichetta? Leggiamolo insieme. Intanto tra gli ingredienti di queste fette biscottate c'è lo zucchero e ci sono 4,4 grammi di zucchero per ogni 100 grammi. È un ingrediente che potrebbe anche non esserci ma non è l'errore più grave perché in ogni caso sono pochi gli zuccheri di queste fette biscottate. Vediamo se riuscite a trovare voi l'errore. Andiamo a vedere invece questi crackers di riso integrali che sono biologici, molti pensano che biologico voglia dire assolutamente salutare. Poi c'è scritto che hanno pochi grassi che sono senza glutine. Sono fatti con il riso integrale, con la quinoa e quindi con tanti aspetti positivi per la salute. Se guardiamo poi effettivamente gli ingredienti sono tutti ingredienti di alta qualità, c'è addirittura anche l'inulina. Ma dov'è che casca l'asino? Casca l'asino è un aspetto molto molto importante. Ecco qui che proprio dove fa la piega all'etichetta leggiamo che il sale è 1,6 grammi per ogni 100 grammi di prodotto. Cioè il sale è altissimo in questi crackers. Noi potremmo pensare va bene ma i crackers sono un alimento salato. Andiamo invece a vedere le fette biscottate e vediamo che il sale è ancora di più. Per ogni 100 grammi 1,7 grammi di sale. Quindi ancora più sale nelle fette biscottate rispetto che nei crackers. Ecco che questo è un aspetto assolutamente su cui non deve cascare l'asino perché l'ipertensione è la maggiore causa di mortalità al mondo dopo la scorretta alimentazione e un apporto di sale troppo elevato aumenta la pressione sanguigna e quindi aumenta il rischio di mortalità. È un grave problema dei prodotti gluten free. I prodotti gluten free sono spesso sbilanciati. A volte sono sbilanciati perché sono troppo grassi. A volte sono sbilanciati perché sono troppo zuccherati. A volte sono sbilanciati perché contengono ingredienti di scarsa qualità ma molto spesso come in questo caso sono sbilanciati perché contengono troppo sale. Allora infatti io me ne ero resa conto perché avevo messo in bocca uno di questi cracker e veramente mi aveva fatto un'impressione proprio di super salato. E poi quando ho scoperto che nelle fette biscottate c'era ancora più sale è un grave problema perché noi in tutta la giornata abbiamo un budget di soli 5 grammi di sale. Se nelle fette biscottate c'è l'1,7 per cento di sale veramente in un ingrediente che dovrebbe essere sale zero perché è un ingrediente della colazione dolce e non della colazione salata. Se ci metto così tanto sale poi veramente rischio di iniziare la giornata con il piede sbagliato. Quindi questa è un po' una tirata di orecchie che vorrei fare a tutti i produttori gluten free e poi invitare tutti coloro che preferiscono togliere il gluten dalla propria limitazione o che sono veramente celiaci di scegliere prodotti che siano bilanciati. Noi nel nostro ristorante Limbra Cucina Evolution ci siamo certificati gluten free e commercializziamo biscotti senza sale, il nostro pane gluten free, le nostre basi per la pizza hanno pochissimo sale. Qual è la difficoltà? La difficoltà è che togliendo il glutine è in più difficile dare gusto, dare sapore alle preparazioni e allora cosa si fa? Si ricorre o ai grassi o allo zucchero o al sale. Quindi ci vuole molta ricerca, molte prove, molta competenza per fare dei prodotti che abbiano un equilibrio nutrizionale oltre che siano senza glutine. Proprio per questo motivo è molto difficile trovare prodotti in commercio gluten free che abbiano queste caratteristiche. Molte delle ricette del libro Cucina Evolution sono gluten free e quindi hanno moltissimo gusto e ci insegnano come cucinare anche a casa senza necessariamente dover acquistare i prodotti gluten free, poter cucinare a casa senza glutine e con questo equilibrio nutrizionale. Occhio, attenzione perché molte persone che eliminano il glutine poi incorrono in patologie cardiovascolari, in diabete, in sovrappeso proprio grazie al fatto che per mangiare gluten free bisogna aggiungere tanto sale. Quindi aiutiamo le aziende a migliorare, impariamo noi a cucinare a casa senza glutine e senza queste abbondanze di sale e poi ecco vi aspetto anche il nostro ristorante Libra Cucina Evolution per gustare i nostri piatti gluten free dalla pizza alla carbonara a tutti i dolci dove non viene aggiunto neanche un grammo di sale ma il gusto è veramente top. Buona serata a tutti un saluto affettuoso e a presto ciao